Un cordiale buon pomeriggio dal Cirigliano di Aversa, prova d'apertura premio Vietri sul mare, riservata a soggetti di tre anni, non vincitori di 8 mila euro nella carriera, la distanza è quella del miglio, sono in sette al via, se in prima fila uno in seconda, dallo steccato Ezechiele LZ, il Pierverinais, Extra Waisel, Edera Banne, Enautz, FBGF, seconda fila per Eldorado Nappa. Si ritrae FBGF, Extra Waisel, il più sollecito alla chiusura delle ali, a largo incumbe Enautz, portato con prudenza da Mario Minopoli sul leader, si piega un po' in curva il figlio di Victor Gio. 200 metri in 16 scarsi, nel frattempo è finito squalificato il Pierverinais, sfila a condurre Enautz su Extra Waisel, a due, tre lunghezze c'è Ezechiele LZ, che precede Edera Banne. 37, il quarto iniziale di Enautz, figlio di Victor Gioe, Naomi DBS, continua sul passo e acquisisce un po' di margine su Extra Waisel, primi 600 metri in 45 e mezzo. Al passaggio davanti alle tribune Enautz e Saldo Battistrada, seguito da Extra Waisel, mentre risale Edera Banne, che copre Ezechiele LZ. 1-1 e mezzo il primo giro. Enautz sta per raggiungere il chilometro, percorso in 1-17 secchi, con curva in 15 e mezzo, seguito sempre da Extra Waisel, mentre gli altri faticano a tenere il ritmo dei primi. Notevole la frazione di fronte, dai 1000 ai 1002, 14 e 3-1, 31 e mezzo, i tre quarti di miglio. Fa velocità Enautz. Enautz in chiara fuga. Vola la curva in 14 e qualche spicciolino appena appena. Un quarto intermedio in 28 e mezzo. Enautz, Extra Waisel, a distanza, Edera Banne al terzo. C'è un 43 e mezzo per i 600 conclusivi, media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1-14 e 6, 1-14 e 7 per il vincitore Enautz, un soggetto tardivo ma particolarmente interessante. Questo portacolori di Giorgio Cangiano. Team Minopoli al training, Mario Minopoli alle redini lunghe. In continuo progresso, Extra Waisel, che chiude al secondo posto e al terzo, Edera Banne, anch'essa in crescita.